Ciao a tutti, oggi vi parlerò di un libro, quindi recensione libro, non ancora trash. Datemi un po' di tempo e poi vi saprò accontentare. Il libro in questione è Paranoid Park di Blake Nelson, che io ho letto perché vidi anni or suono il film omonimo di Gus Van Sant, che a me piacque abbastanza. Come vi ho detto, io ritengo Gus Van Sant un regista molto altalenante, capace di bellissimi film e di altrettante cagate. Però diciamo che ogni volta che esce un suo film lo guardo, anche perché sulla carta si promette sempre qualcosa di interessante. In questo caso il film mi era piaciuto perché riusciva molto bene a dare l'impressione, farci entrare nella mente di una persona, in questo caso un adolescente, perché l'adolescenza è una delle tematiche ricorrenti di Gus Van Sant, legata anche alla tematica più importante che è quella della morte, del vuoto. Riusciva a dare questa impressione di senso di smarrimento nei confronti della vita, dovuta semplicemente al potere del rimorso. E allora io girando in biblioteca ho trovato tra gli scaffali il romanzo, e mi sono deciso a leggerlo. È un romanzo molto breve, sono 130 pagine, e si legge veramente in fretta perché è una scrittura estremamente semplice. Infatti, mentre il film di Gus Van Sant diciamo che è aperto ad un target molto vasto, e pur avendo un certo profilo autoriale, diciamo, il romanzo è essenzialmente per adolescenti, secondo me. È sicuramente una lettura interessante da fare anche da chi è fuori target, anche da chi è fuori target, ma in questo caso è un libro di adolescenti per adolescenti. Basti vedere da com'è scritto, la scrittura così asciutta, semplice. Blake Nelson, in questo caso, è molto bravo a scrivere nella scrittura, a impersonificarsi in un sedicenne, perché decisamente scrive come un sedicenne, almeno in questo caso è il suo unico romanzo coletto, con anche una serie di errori grammaticali che sicuramente sono voluti in questo caso, quindi congiuntivi totalmente sbagliati, modi di dire colloquiali, no? Perché alla fine questo romanzo è tutto scritto dal punto di vista di Alex, che è il protagonista, che trova nella scrittura la sua capacità, la sua valvola di sfogo per eliminare il senso del rimorso, diciamo, perché questo libro in sostanza è stato pensato come una sorta di delitto e castigo per teenagers, in sostanza. Alex, infatti, è uno skater non così eccezionale, ma sicuramente appassionato di skate, che un giorno decide di affrontare il Paranoid Park del titolo, che è questo parco di ritrovo per skaters, diciamo, quelli più fichi, però con delle controindicazioni in quanto è un posto mal visto anche dagli skaters sedessi, in quanto, per quanto sia un luogo fighissimo dove fare acrobazie fantastiche, è decisamente popolato da individui sospetti e di dubbio gusto. È anche persona abbastanza pericolosette, diciamo. Alex decide una sera di andarci completamente da solo e viene, diciamo, attirato nelle grinfie di alcuni i pancabestia. Io non so come viene reso in inglese, in lingua originale, pancabestia, ma devo dire che rende abbastanza bene l'idea. Poverini i pancabestia che devono essere sempre i capri espiatori del modo di vivere così criminoso. Ecco, in realtà, sono persone buonissime molto spesso. E vabbè, questi pancabesti del libro diciamo che sono quelli cliché, cioè un po' cattivelli, che spingono Alex a fare una gogliardata, in sostanza, ovvero salire su un treno in corsa in modo totalmente illegale, diciamo. Solo che vengono sorpresi da una guardia, non sono spoiler questi, proprio l'incipit del romanzo, vengono sorpresi da una guardia e in questo tentativo la guardia cerca di portare giù i ragazzini e di fermarli. Succede un parapiglia, la guardia finisce sotto il treno e muore. E in sostanza Alex si sente colpevole di questo in quanto lui è responsabile dell'amor accidentalmente, ma è responsabile della morte di quest'uomo e quindi tutto il romanzo è costruito sul senso del rimorso, di questo delitto non voluto, diciamo, e con anche tutta una vita adolescenziale che cade a scatafascio, no? tra i voti a scuola, il rapporto con i genitori, il rapporto con la fidanzata, gli amici, tutto prende una piega decisamente più lugubre, ma anche attraverso questo senso del dolore comunque Alex riesce a raggiungere un certo grado di maturazione. infatti è un libro è un racconto di formazione alla fine né più né meno di certo non è come ho letto in giro che viene spacciato un thriller psicologico assolutamente no anche perché qua ed è l'unica pecca che posso trovare a questo romanzo che io reputo e consiglio ottimo per gli adolescenti soprattutto una buona lettura adolescenziale non è assolutamente un romanzo psicologico per quanto il perno sia l'elaborazione del rimorso perché ho trovato che proprio perché è raccontato da un sedicenne il libro si focalizza molto sui fatti sulle azioni è poco emozionale ed è per questo che ci ho trovato delle pecche le pecche principali sono queste la scrittura è talmente semplificata scarnificata da non lasciare enorme spazio alle emozioni diciamo cioè le emozioni vengono tradotte in azioni quindi il dolore viene espresso con ho pianto ho gridato non ho dormito non ho mangiato non c'è una vera propria rappresentazione del disagio interiore di questo trauma perché alla fine è un trauma è tutto molto buttato lì ma buttato lì perché è giusto che sia buttato lì in sostanza perché alla fine questo qua è tutta una sorta di romanzo epistolare perché lui trova come sfogo al suo dolore lo scrivere delle lettere ad una persona che non vi dico perché spoiler scrive delle lettere confessandosi perché lui diciamo che non si costituisce diciamo si costituisce attraverso la scrittura e trova la sua liberazione attraverso le parole però appunto essendo uno sfogo non rallenta mai si concentra molto sulle azioni su una cronaca dei fatti e da una parte doveva andare così per forza dall'altra mi aspettavo sicuramente un approfondimento psicologico maggiore anche raccontato con semplicità perché comunque è un romanzo per adolescenti però un po' meno concentrato sulle azioni con il rischio di sembrare frettoloso però per il resto è un romanzo super coinvolgente per chi ha visto il film di Gus Van Sani il film di Gus Van Sani è estremamente fedele al romanzo ma secondo me il film ha quella marcia in più perché allo stesso tempo racconta tutto ciò che c'è nel romanzo ma riesce molto meglio a interpretare una un approfondimento di carattere psicologico è molto più presente nel film che nel libro il libro non lo fa assolutamente ma per niente cioè è un buon racconto quello sì però la pecca è ci vuole un po' di sostanza in sostanza in sostanza in sostanza quindi detto questo sì ve lo consiglio però con le pinze nel senso lo consiglio soprattutto al target di riferimento fatemi sapere se l'avete letto se lo leggereste se vi interessa io vi saluto e alla prossima ciao ciao